Punto Piuma Home è nata circa dieci anni fa perché volevamo creare una gamma di prodotti che portasse il nostro marchio. Grazie all'esperienza data dal Punto Piuma Rosso abbiamo creato una linea di arredamento interno e esterno e un ambiente letto, cercando di tenere materiali e imbottiture al top. Il nostro prodotto di punta è il piumone quattro stagioni. Il piumone quattro stagioni è composto da due piumoni, un primo piumone light e un secondo piumone medium. Unendoli possiamo ottenere un piumone invernale. Questo diamo al nostro cliente la possibilità di utilizzare un solo prodotto per 365 giorni all'anno, in base alle esigenze climatiche e alle esigenze corporee. Creando l'ambiente letto abbiamo cercato di dare massima possibilità per quanto riguarda le trapunte guanciali. Infatti abbiamo anche un menù cuscini creato ad hoc per il settore alberghiero, dando la possibilità ai clienti di poter scegliere il guanciale perché non tutti dormiamo nella stessa maniera. Grazie a tutti!